Dolcezza appena approdata in i rex e fornelli. Oggi ti faccio vedere come preparare dei semplici biscotti al limone e cocco. Per prima cosa rompi le uova all'interno di una ciotola, aggiungi lo zucchero e mescola. Poi inserisci anche la scorza ed il succo di un limone biologico, o come nel mio caso del succo in bottiglia. La farina 00, quella di cocco, il lievito per dolci, avvalgama il tutto e dopodiché incorpora anche il burro freddo di frigorifero tagliato a tocchetto. Poi l'aroma di vaniglia. Lavora il tutto velocemente, mi raccomando, è importante, con la punta delle dita per non riscaldare troppo la frolla. E se noti che diventa difficile da lavorare poiché si è ammorbidita troppo, aggiungi altra farina. Quando avrai ottenuto un panetto liscio ed omogeneo, avvolgilo nella pellicola trasparente e riponilo a riposare in freezer per 15 minuti. Successivamente preleva un pochino di impasto, più o meno quanto una noce, forma una pallina e rotolala nello zucchero a velo. Continua così fino a terminare tutto il panetto e cuoci nel forno a 180 gradi per 15 minuti. Grazie a tutti!